A Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà, crudeltà umana, a tanto terrorismo, sia terrorismo isolato, sia terrorismo di Stato, ma la crudeltà della quale è capace l'uomo. Preghiamo in questa Messa per le vittime di questa crudeltà, tante. E chiediamo anche per i crudelli, perché il Signore cambia il suo cuore. Nella Messa celebrata nella Cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha condannato con forza l'atto di sangue che ha sconvolto Parigi, auspicando che quanto prima il cuore dell'uomo possa essere convertito dall'amore di Dio. Dio è amore e soltanto per la strada dell'amore tu puoi conoscere Dio. Amore ragionevole, accompagnato della ragione, ma amore. Ma come posso amare quello che non conosco? Ama quelli che tu hai vicino. E questa è la dottrina dei due comandamenti. Il più importante è amare Dio, perché Lui è amore. Ma il secondo è amare il prossimo. Ma per arrivare al primo dobbiamo salire per le scaline del secondo. Cioè, tranne l'amore al prossimo, arriviamo a conoscere Dio che è amore. Soltanto amando, ragionevvelmente, ma amando, possiamo arrivare a questo amore. Soltanto amore. Soltanto amore. Tenta. Soltanto amore. Ma per la prima cosa.